Allora regà, dopo che mi sono fatto un'ora e mezza a piedi, ho peccato qua l'amico e il motorino che stiamo a fare una passeggiata, dal momento che sono andato a vedere una pagoda ma era chiusa perché fanno degli orari del cazzo, allora piuttosto che fa a menarsi 6 km come quelli che mi erano fanno stamattina, in senso contrario, questo caldo, ho preso lui, questo attrezzo che mi porta in giro, ovvero mi porta fino a questo museo della rivoluzione, le strade sono piuttosto libere, questo motorino se sta bene, alla fine questo passaggio mi costano 1,50 euro, ho già 10 minuti che stiamo a un motorino, me sa che cammino più, ho imparato questa cosa, non cammino più, spero che ho messo questo cappelletto molto ok, mi casco, speriamo di non casca perché altrimenti mi apro la testa, ci mancheremo solo che mi faccio un tipo un'accidente da un motorino da noi, che comunque è molto bello, adesso speriamo di peccare anche un po' di quel famoso traffico di etnamita, che ancora non riesco a farvi vedere, sembra che il traffico non c'è sta ma mi dovete credere qui un po' di tempo, che è un po' di tempo, allora metto un attimo in pausa e se vi beccano un po' di tempo, vai!